c'è una scrocca palla davanti o una scrocca palla? di qualcosa, di qualcosa Morini sa mangiare 6 gaffi di pasta, arco giuro te, mangiare? e poi ha fatto la stancetta con la fredda c'è cani quanto preoccupare? vedi? 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 ah 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 eccoci, eccoci, siamo arrivati i due cilvetti d'italia, dite lo giuro e lo giuro la fa, non è mancanza di zucchero è la fa, non è mancanza di zucchero 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 Con l'Aldi? Chi è? Con l'Aldi? Con l'Aldi, eccolo, eccolo. Ecco, cercando. Ci vieni, papi? L'hai tirato a due, eh? L'hai tirato a due. L'hai tirato a due, eh? L'hai tirato a due. No, io ce l'ho, vai. La fine Milano, che cosa stai? Ma io sono la segretaria. Lombardi Mirko? C'è un terzo. C'è un calo di zucchero. Ma scusa, una cosetta veramente? Vabbè, continuate, continuate. Capite chi dà i soldi, sì. Capite chi dà i soldi con me. Hai capito chi dà i bocchi qua, sì? Sì.